Un 2020 in cui i carabinieri hanno continuato ad operare al servizio della collettività con slancio e dedizione al dovere anche nei momenti difficili della drammatica pandemia in atto assicurando la costante apertura ai cittadini di tutti i comandi e una ininterrotta azione di vigilanza nei 150 comuni della provincia più grande della Calabria. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza, nove compagnie, una tenenza, 87 stazioni e un posto fisso hanno tracciato il bilancio delle attività svolte nell'anno che si chiude. Numeri importanti che si sono concretizzati in quasi 70.000 servizi di controllo del territorio, un'azione che ha fatto registrare un calo di oltre il 23% dei delitti commessi, abbinato ovviamente agli effetti prodotti dal lockdown con un decremento ancora più accentuato dei reati predatori, furti e rapine per i quali si è rilevata una flessione superiore al 37%. Dall'inizio dell'anno al numero di emergenza 112 del comando provinciale carabinieri di Cosenza, pensate, sono arrivate quasi 800 chiamate al giorno. Un impegno particolarmente oneroso ma che si è svolto soprattutto in favore della popolazione con un'attività non soltanto di controllo ma anche di sensibilizzazione e di informazione circa il contenuto dei provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo. Tante anche le operazioni a contrasto della criminalità? Sì, le operazioni sono state tantissime a partire dalle ultime del mese in corso di dicembre, operazione, ne ricordiamo soltanto alcune tra le più importanti, l'operazione Renudo che ha riguardato l'alto Tirreno-Cosentino e ha svelato un articolato e diffuso sistema di corruttela, ma vorrei ricordare anche l'operazione Silence che ha riguardato purtroppo l'azienda ospedaliera di Cosenza e il servizio di pulizia facendo venire fuori una truffa e una frode che ha portato ben 3 milioni di euro a sottratto alle casse pubbliche.